Una infermiera professionale dell'ospedale di Piombino è stata arrestata dai carabinieri del NAS con l'accusa di omicidio continuato aggravato a danno di pazienti. Secondo le indagini, l'infermiera è ritenuta responsabile del reato di omicidio volontario continuato avvenuto negli anni 2014 e 2015 nei confronti di 13 pazienti, tutti ricoverati a vario titolo e per diverse patologie presso l'unità operativa di anestesia e reanimazione dell'ospedale civile di Piombino. L'operazione denominata killer in corsia si è conclusa nella tarda serata di ieri con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Livorno nei confronti della donna. Grazie a tutti.